Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben trovati a un nuovo appuntamento con il telegiornale di Alghero su Catalan TV. In primo piano la sanità. Parliamo dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il commissario straordinario dell'ASL Agostino Sussarello e i componenti della quinta commissione consigliare presieduta da Alessandro Nasone. Tutti concordi sul fatto che Alghero ha bisogno di un nuovo ospedale, ma intanto si vigilerà sui lavori in corso al civile che presto riguarderanno anche il marino. L'incontro dei giorni scorsi con il commissario straordinario dell'ASL Agostino Sussarello, accompagnato tra gli altri dal direttore sanitario Serenella Zedda, è servito per fare il punto non tanto, meglio non solo, sul piano di rete ospedaliera, quanto sulla situazione dei due ospedali algheresi, alla luce dei disservizi più volte segnalati. Sia la dirigenza dell'ASL che i consiglieri comunali sono concordi su un fatto. Alghero ha bisogno di un nuovo ospedale perché la struttura attuale è tenuta in piedi solo grazie ai rattoppi eseguiti in questi anni. Nel corso dell'incontro con la commissione sanità, durato circa tre ore, l'ASL ha fatto sapere che i lavori in medicina dovrebbero concludersi entro la fine di aprile, mentre quelli per il nuovo nido sarebbero in via di ultimazione. Per quanto riguarda l'ostetricia, tra l'altro il commissario Sussarello sta predisponendo, in concerto con la direzione della struttura e l'anestesia, un piano per l'avvio della sperimentazione del parto in analgesia. Questo servizio, unito anche ai nuovi locali del nido e dell'ostetricia, dovrebbe aiutare a catalizzare verso la nostra città le gestanti, che altrimenti vengono indirizzate verso altri nosocomi. C'è poi il nodo legato al definitivo accreditamento della risonanza magnetica del marino, per il quale si è in attesa del decreto regionale. Per quanto riguarda l'ex dispensario, attualmente ospitato in locali angusti e fatiscenti, non idoni per il transito dei pazienti, Sussarello ha assicurato che sarà trasferito a breve in nuovi locali, nell'ala nord dell'ospedale civile. Quindi sono stati affrontati gli ostacoli che impedirebbero alla regione di classificare Alghero come presidio di primo livello. Le criticità riguardano la terapia intensiva e il reparto di ostetricia, con il tetto dei 500 parti annui da raggiungere. In tal senso sono terminati i lavori per l'unità di terapia intensiva coronarica, che sarà trasformata in terapia intensiva con l'acquisizione di sei ventilatori meccanici. Il punto critico per l'accreditamento della struttura di sei posti letto e il personale servono per l'apertura a 15 infermieri e sei rianimatori. La regione deve dunque autorizzare la spesa per l'assunzione e per il mantenimento annuo della struttura, che è quantificabile in 2 milioni e mezzo di euro. E' necessario dunque un aumento dei fondi a disposizione dell'ASG per il 2016 di 335 milioni. Un altro aspetto non meno importante è il declassamento del centro trasfusionale a emoteca. Tutti concordi anche in questo caso, che si tratterebbe di un grave errore al quale la regione dovrebbe rimediare. E ora parliamo dei mercati civici, perché dopo l'episodio avvenuto la settimana scorsa, come ricorderete, con il distaccamento della copertura in plastica di una plafoniera nel mercato ortofrutticolo, che ha comportato per motivi di sicurezza lo spostamento dei banchi di ortofrutta nel mercato del pesce e della carne, il consigliere comunale del nuovo centrodestra ed ex presidente del centro commerciale naturale e del centro Emiliano Piras lancia la proposta di unificare le due strutture con l'individuazione di una figura manageriale per la gestione. La proposta di unificare i due mercati civici, soprattutto alla luce delle condizioni strutturali dei due mercati e dopo il recente episodio. Sì, io credo che l'unificazione dei mercati sia il futuro migliore per quella struttura. Io credo che i commercianti del settore agroalimentare, se messi nella stessa struttura, possano offrire un'offerta migliore, più variegata dei loro prodotti e possano attirare molti più flussi. A questo vanno uniti tutta un'altra serie di servizi che attirino anche altra clientela all'interno del mercato stesso. Per fare questo, secondo me, è utile che il mercato sia anche coordinato da una figura manageriale che ne decida le mission, che ne curi l'immagine coordinata, che studi anche tutta una serie di eventi collaterali che possano attirare flussi nel mercato stesso. Tutto questo, secondo me, deve essere fatto nell'attuale struttura del mercato del pesce, naturalmente adeguata alle esigenze degli operatori, mentre per quanto riguarda l'attuale mercato della frutta, io credo che, come è già stato dimostrato in passato, con tanti eventi organizzati dalle più svariate associazioni, enogastronomici, culturali e musicali, possa appunto diventare una struttura importante al centro di Alghero per poter organizzare questo tipo di eventi. e perché no, possa essere anche inserita la stessa struttura nel progetto del distretto della creatività che questa amministrazione ha in animo di perseguire. Quindi un futuro diverso per i mercati, il concepimento di un mercato più moderno, più adeguato ai nostri tempi e quindi io credo che questo sia il futuro che debbbero avere quelle strutture. Ora cambiamo argomento. Il consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco Marco Tedde interviene in merito al servizio di bike sharing dopo l'annuncio da parte del Comune del prossimo avvio di Bike to Work e Bike to School. Da oltre 4 anni, 40 biciclette e 5 stazioni abbandonate in magazzini comunali, dice. Sono trascorsi oltre 4 anni dalla gara che aggiudicò il servizio di bike sharing ma di questo strategico servizio per i cittadini algheresi e per i turisti non se ne vede neanche l'ombra. E il vice capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale ed ex sindaco Marco Tedde a denunciare una gestione, si legge, della cosa pubblica imbarazzante. Un investimento importante che la giunta municipale di centrodestra fece nel 2011 che, integrandosi col piano della rete ciclabile urbana approvato dal Consiglio Comunale nel 2007 avrebbe dovuto migliorare la viabilità cittadina e la qualità della vita degli algheresi. Il bando di 108 mila euro regolarmente aggiudicato prevedeva la fornitura, il montaggio e la gestione del servizio che comprendeva anche l'uso di 500 card elettroniche con le quali i cittadini avrebbero potuto usufruire del servizio prelevando le biciclette dai cicloposteggi. Completavano il progetto totemi informativi, ancoraggi, lucchetti personalizzati, monitoraggio del traffico tramite il sistema, GPRS. L'appalto prevedeva anche la gestione del servizio per un anno, manutenzione del sistema e formazione del personale e un originale piano di marketing e comunicazione. Da allora incalza l'ex primo cittadino di Alghero silenzio assoluto sul servizio, tranne cialtronesche giustificazioni del tipo non abbiamo allestito il bike sharing perché le biciclette hanno colori che non ci piacciono e devono essere movimentate e riparate quando si guastano. Una fattispecie che secondo il consigliere regionale algherese dovrebbe interessare la magistratura contabile, ma è paradossale, incalza ancora Tedde, che oggi l'amministrazione annunci progetti per l'uso della bicicletta difficili da comprendere nei contenuti che farebbero anche guadagnare chi vi partecipa. Oggi i mantra sono Bike to work e Bike to school. Nel frattempo cinque stazioni da posizionare a Fertilia, presso la stazione ferroviaria, nell'area portuale, in piazza Sulis, in piazza della Mercede e 40 biciclette attendono speranzose che qualcuno le utilizzi e metta a frutto i 108 mila euro investiti. Un vero e proprio scandalo. Sollecitiamo ancora una volta l'amministrazione ad avviare il servizio in tempi brevissimi, contribuendo a mettere un ulteriore tassello delle politiche di mobilità sostenibile progettate e finanziate dalla giunta di centrodestra. Non potremo continuare, chiude Tedde, ad assistere in silenzio a questo scempio nella gestione della cosa pubblica. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Arei verdi e rotatorie. Dopo eventi, manifestazioni e immobili, si amplia la possibilità di partecipare al percorso di miglioramento dell'immagine della città con la procedura delle sponsorizzazioni. La comunicazione arriva direttamente da Sant'Anna. Dal Comune fanno sapere che la scadenza del bando è prevista per il prossimo 8 aprile. Imprese e società, ditte individuali, cooperative, consorzi, operatori, commerciali, ma anche istituti di credito ed associazioni senza fini di lucro. A loro è rivolta l'opportunità di candidarsi ad effettuare la manutenzione o gestione di una o più aree verdi o rotatorie attraverso la procedura di sponsorizzazione che l'amministrazione ha varato congiuntamente a quella per eventi e immobili di proprietà comunale. L'allestimento a verde infatti consente la qualificazione e la valorizzazione di un luogo e specialmente nel caso di rotatorie poste all'ingresso dei centri abitati rappresenta una sorta di biglietto da visita per la città. In cambio della sistemazione, la manutenzione e gestione delle aree l'amministrazione riconosce la possibilità di installarvi cartelli istituzionali finalizzati alla sponsorizzazione con garanzia di un ritorno d'immagine. Le aree a verde pubblico comunale e le rotatorie interessate alla sponsorizzazione sono diverse dalla piazza San Marco di Fertilia con aree verdi annesse alla piazza Maria Carta, al parcheggio dell'ospedale civile della rotatoria di via Dominzoni, via Liguria e lungomare Barcellona dai bastioni Cristoforo Colombo alla rotatoria con aree verdi annesse di via Fermi e via Dominzoni. L'elenco completo delle aree individuate è contenuto nell'avviso pubblico con relativi allegati disponibile sul sito istituzionale del comune di Alghero nell'albo pretorio alla sezione servizi al cittadino, bandi, avvisi e graduatorie. I soggetti interessati, fanno sapere da Sant'Anna, dovranno far pervenire le proprie proposte al comune di Alghero entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 aprile 2016 all'indirizzo via Sant'Anna 38. E sempre dal comune fanno sapere che sono ripresi a fine gennaio gli interventi di deratizzazione e disinfestazione in città. L'ufficio Ecologia in collaborazione con la società Multis sta attuando un programma di operazioni già effettuato in varie zone dell'abitato l'ultima delle quali nei giorni scorsi nel quartiere di Sant'Agostino. Ora gli addetti della società specializzata si spostano nel centro storico per l'attuazione di una campagna che interesserà tutti i vicoli e le piazze della città murata. Successivamente la Multis entrerà in azione nella parte sud della città nell'ampia area compresa tra via Manzoni, da via Giovanni XXIII e lungomare Valencia. Oltre ad interventi organizzati e calendarizzati dall'ufficio Ecologia riguardanti quasi tutta la rete viaria cittadina con deratizzazioni mirate i servizi verranno effettuati anche in base alle segnalazioni dei cittadini e degli organi di vigilanza che evidenziano presenza di ratti. Giornata di lavoro, quella di oggi al municipio di via Colombano per i partecipanti alle scuole di formazione politica di Alghero e Cagliari quest'ultima aderente alla rete internazionale delle scuole di partecipazione unica in Sardegna è composta da 15 studenti universitari impegnati principalmente sui temi della rigenerazione urbana nei comuni dell'isola. Entrambe sono alla fine del ciclo biennale di elezioni frontali per i partecipanti alla scuola di Alghero. Il lavoro proseguirà con uno stagio formativo sui temi dell'amministrazione della città e una giornata in consiglio regionale. Questa mattina in un incontro con la stampa è stato illustrato il lavoro compiuto nell'ultimo biennio di operatività e i risultati raggiunti alla presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno e della giunta comunale a seguire la partecipazione alla seduta della consulta per lo sviluppo economico come potete vedere dalle immagini con la relazione del segretario generale del comune di Alghero Luca Canessa già direttore della scuola delle autonomie locali sul tema delle politiche di cittadinanza attiva programmate dall'amministrazione negli ambiti del baratto amministrativo sponsorizzazioni di aree verdi e mobili comunali e il progetto Bike to Work per la prima volta in Italia rivolto anche agli studenti di università e scuole. I lavori proseguiranno nel pomeriggio sempre di quest'oggi dalle 15.30 con il confronto tra sindaco, giunte e consiglieri comunali con le iscritte alle due scuole di formazione per amministratori locali di Alghero e Cagliari sui temi della partecipazione, l'utilizzo dei social network nella comunicazione politico-amministrativa e negli enti pubblici il gioco d'azzardo, le tematiche sulla multiculturalità e quelle sul funzionamento dei comitati di quartiere la partecipazione fanno sapere è aperta a tutti. Verrà presentata invece questo pomeriggio alle 17.30 presso il Salone del Centro di Aggregazione Sociale 10 febbraio a Fertilia la nuova associazione culturale denominata nel vivo della storia il nuovo sodalizio presieduto da Rolando Galligani ha come obiettivo l'approfondimento, lo studio e la divulgazione della cultura storica con particolare riferimento al territorio sardo l'associazione intende contribuire alla valorizzazione delle fonti storiche esistenti affinché le stesse non vadano perdute o si deteriorino intende inoltre favorire la compilazione di inventari, guide, bibliografie e altri strumenti di corredo tra le aree di interesse e consociativamente impegnati vi sono ad esempio il collezionismo storico il modellismo storico, la rievocazione storica e la storia della seconda guerra mondiale e ora un altro break pubblicitario prima dello sport allora adesso come detto lo sport noi iniziamo come sempre con il calcio e con il servizio dedicato al campionato di promozione se il Fertile ha più di un piede in prima categoria purtroppo l'Algherio invece per fortuna è ancora in corsa per la salvezza ma andiamo a vedere contro chi giocheranno domani le due squadre algheresi a sei giornate dalla fine è ancora tutto aperto sia per i play-out che salvezza diretta obiettivo che sembrava difficile sino a qualche settimana fa per l'Alghero ma ora alla portata grazie ai tre punti che separano la squadra di Massimiliano Niedu da Macomerese e Montalbo il 4-0 rifilato al Tempio è arrivato probabilmente nella partita più bella dei giallorossi in stagione ha dato grande fiducia all'ambiente ma soprattutto accorciato il divario dalle altre squadre ad eccezione della partita di domani contro il Sorso e l'ultima contro la capolista Ilva Maddaleno l'Alghero avrà davanti solo scontri diretti nei quali servirà fare bottino pieno per eseguire l'obiettivo salvezza intanto domani i giallorossi proveranno a fermare un'altra pretendente al salto di categoria come già fatto brillantemente una settimana fa con il Tempio fare punti a Sorso non è stato semplice per nessuno solo il Bonorva peraltro la seconda giornata è riuscito a vincere le altre squadre si sono dovute accontentare al massimo di un punto sono uscite sconfitte è chiaro che un pareggio su un campo difficilissimo farebbe comoda l'Alghero considerando anche gli scontri diretti in programma in questa giornata per il Fertilia c'è invece domani il match Casalingo contro il Lauras altra formazione che punta un posto nei playoff considerando i tre punti di distanza da Usinese e Sorso che occupano la seconda piazza i gialloblu invece sono ormai spacciati solo la matematica ancora non li condanna ma in queste ultime giornate vogliono cercare di rendere meno amara la stagione contro il Porto Torres la scuola di Bardini avrebbe forse meritato qualcosa in più soprattutto alla luce del primo tempo nel quale non sono mancate le occasioni domani proverà a non sfigurare perché no strappare almeno un punto impegno casalingo anche per l'Almedo che domani pomeriggio al pintore Caddeo ospiterà il Malaspina nella decima giornata di ritorno delle Girone E di prima categoria le due squadre sono separate da tre punti per i bianco-verdi quindi l'opportunità di agganciare i prossimi avversari a quota 37 e soprattutto riscattarsi dopo tre sconfitte consecutive anche se ormai la formazione olmedese non ha più nulla da chiedere al campionato passando invece al Girone P di seconda l'obiettivo dell'Audas è quello di soffiare il primo posto all'Ittiri la squadra allenata da Geppo Serra che si trova sempre a meno tre dalla capolista dovrà affrontare il derby algherese contro il Maristella il 3-6 Ligas giocherà invece sul campo dell'Ittir 2013 ora un'altra pausa pubblicitaria e per la quindicesima giornata del campionato di Serie B di Rugby l'Amatore Alghero giocherà in trasferta sul campo del Rugby Lecco una partita interessante tra due formazioni che in classifica sono separate solamente da due punti dopo la bella vittoria interna con la capolista Parabiago battuta con il punteggio di 22 a 13 l'Amatore Regby Alghero è attesa domani dalla trasferta sul campo del tutto cialde Rugby Lecco una sfida interessante sul fronte della classifica dato che le squadre in questione sono distanti appena due punti con i Lombardi che precedono gli algheresi a quota 37 e se da una parte la compagine di casa non vorrà concedere vittorie e punti agli algheresi Anversa e compagni dall'altra vanno a caccia di una vittoria in trasferta soprattutto dopo le prestazioni precedenti fuori dal campo amico che hanno lasciato l'amaro in bocca all'Amatore che in diversi casi non avrebbe meritato una sconfitta all'andata disputatasi lo scorso 7 novembre a Maria Pia in un anticipo furono proprio gli algheresi a vincere per 18 a 15 molto è cambiato in questi mesi che hanno visto una crescita costante dell'Amatore Regby Alghero che ora si ritrova al settimo posto pari punti con Piacenza il fischio d'inizio dell'incontro è fissato per le 14.30 arbitrerà il signor Oscar Muscio Ora andiamo a vedere invece gli appuntamenti delle nostre formazioni di basket cominciamo dalla Serie B con la Mercedes che apre questa sera l'avventura playoff per gara 1 delle semifinali affrontando in trasferta l'Antoniano Quartu alle 18.30 una sfida tra due squadre che hanno chiuso la regular season a pari punti con 14 vittorie e 7 sconfitte Quartu si è passata davanti per la differenza degli scontri diretti che avendo vinto le due gare casalinghe è perso solamente a Palacorbia le ragazze di madre di coach Emanuela Monticelli se vogliono proseguire il loro cammino devono riuscire a invertire il trend in trasferta che le ha viste 6 volte sconfitte lontane da casa Passando alla Serie D maschile turno di riposo per la Pallacanestro Alguero con i giallorossi di coach Brembilla reduci dalla sconfitta contro la capolista Dinamo 2000 che ritorneranno in campo il prossimo 19 marzo per affrontare l'Azzurra Basket Oristano Nella Serie C femminile per la prima gara di ritorno della fase orologio le ragazze della Pallacanestro Alguero saranno impegnate in trasferta questo pomeriggio alle 17 sul campo dell'Azzurra Oristano La Basket Coral 93 organizza per il sesto anno consecutivo il Memorial Simone Fertuzzi riservato alle categorie Under 15 maschile e Under 16 femminile Lo scorso anno hanno partecipato la Toscana con la scuola di Firenze e Emilia Romagna con una squadra di Bologna stavolta il Memorial che si terrà dal 25 al 27 marzo prossimi al Palamanchia sono state invitate una compagine lombarda una toscana una veneta una cagliaritana e tre di Sassari parteciperà ovviamente anche la squadra degli Sharks della Coral 93 dedicata appunto a Simone Fertuzzi la Coral 93 ne approfitta per ringraziare le società che hanno confermato la loro partecipazione al Memorial il Comune di Alghero che ha patrocinato il torneo e tutti i genitori della Basket Coral 93 che si sono resi disponibili per ospitare le squadre che verranno dalla penisola in occasione appunto del torneo e per oggi è davvero tutto ora come sempre spazio dei prisioni del tempo per domani grazie per essere stati con noi e buon fine settimana grazie per essere stati con noi grazie per essere stati con noi